Ha presentato una mozione al Consiglio Comunale perché siano installate le telecamere in asili, strutture per disabili e minori, residenze per anziani. Crescono i casi di maltrattamenti in luoghi dove gli ospiti dovrebbero essere protetti. Per Eleonora Mosco è una questione di civiltà. L'installazione della videosorveglianza negli asili, nelle strutture assistenziali per i minori, per gli anziani e per i disabili. L'emmedamento al bilancio che avevo proposto al sindaco Giordani è stato bocciato. Io quindi chiedo che venga discusso in Consiglio Comunale questa proposta, una battaglia di civiltà. Già approvata una legge, in tal senso la Camera ora si attende il sì del Senato. A Padova, secondo il consigliere Mosco, sarebbero necessari 200 mila euro. È un atto di responsabilità che è quello che chiedo all'intero Consiglio Comunale e al sindaco Giordani per attuare anche una politica di prevenzione. Non possiamo agire sempre quando i danni vengono fatti.